Era sfuggito alla giustizia e viveva nel lusso in una località di mare vicino a Durazzo, in Albania, insieme ai suoi familiari. Ma dopo 12 anni la sua latitanza è finita grazie ai carabinieri della Compagnia di Bianco che lo hanno rintracciato facendolo arrestare. Il Lir Plaku, 55 anni, albanese, era ricercato in Italia dal 2009 per associazione finalizzata al narcotraffico e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo all'epoca si trovava a Brancaleone con l'obbligo di dimora quando ha fatto perdere le sue tracce. Condannato poi a 5 anni e 11 mesi di reclusione, Plaku era ritenuto parte di un'associazione che trafficava insupefacenti ed esseri umani sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale. Le sue ricerche però, condotte anche col mandato d'arresto europeo, sono state vane per 12 anni. Fino a quando, negli ultimi mesi, i carabinieri hanno inviato nuove indagini coordinate dalla Procura di Locri e dalla Procura Generale di Cagliari. Attraverso un ampio monitoraggio del web, gli investigatori sono riusciti a verificare che Plaku stava trascorrendo la latitanza insieme ai suoi parenti vicino Durazzo. Una latitanza dorata, visto che, in numerose foto, l'uomo sembrava condurle una vita lussuosa e alla luce del sole, tra viaggi, cene di famiglie e abiti filmati. I carabinieri hanno quindi segnalato i nuovi elementi alla Procura Generale che ha chiesto al Ministero della Giustizia l'estensione delle ricerche in ambito internazionale. L'operazione è avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bianco che hanno fornito alla Polizia Albanese precisi dettagli. Ciò ha consentito alle forze di Polizia Albanese, con il coordinamento di Interpol, di rintracciare ed arrestare il latitante.